Signore e signori, buonasera e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale che riprende da questa puntata. Ho voluto iniziare con un argomento estremamente attuale. Tranquilli, non vi parlo di Covid, però vi parlo di vaccinazione anti-influenzale in epoca Covid, perché si tratta di una condizione molto particolare. Allora, l'anno scorso il virus influenzale praticamente non ha circolato. Influenze sono state rarissime e comunque di scarsa rilevanza clinica. Quest'anno invece è prevedibile, dal momento che si sono allentate quelle condizioni, la mascherina, l'allontanamento eccetera, spero invece che il lavaggio delle mani continui ad esserci come sempre e quindi è verosimile che si possa andare incontro a una forma influenzale più diffusa in termini numerici. E non sappiamo, ma possiamo ipotizzare anche un pochettino più importante rispetto agli anni passati. Allora, ci saranno due varianti e il vaccino che è stato preparato ed è già in distribuzione copre entrambe le varianti. Sono stati individuati in Australia e adesso stanno facendo il giro del mondo. Abbiamo a disposizione due tipi di vaccini, un trivalente e un quadrivalente. Praticamente il quadrivalente è un vaccino ad alto dosaggio, cioè contiene quattro volte la quantità rispetto al trivalente. Naturalmente questo va dedicato alle persone ad alto rischio e vanno chiaramente decise dal medico curante. Non possiamo andare noi a comprarci direttamente l'uno o l'altro, dobbiamo chiederlo al nostro medico se vogliamo farci poi iniettare il vaccino per conto nostro e non presso i nostri medici di base. È importante vaccinarsi, sempre è importante vaccinarsi, lo è in particolare perché adesso c'è anche il covid in giro e in me ci sarà ancora, speriamo entro i numeri limitati, ma ci sarà ancora. Il fatto di essere vaccinati ci dà due risposte. Uno, i vaccinati dovessero andare incontro al covid avranno una forma sicuramente clinicamente meno importante e secondo il fatto di essere vaccinati contro l'influenza stagionale ci può consentire di fare una diagnosi differenziale più accurata. Per esempio ci viene la solita febbre, la solita tosse, il solito mal di gola. È difficile distinguere l'influenza da una patologia covid correlata. Per cui il fatto di avere a che fare comunque con un vaccinato ci consente di ipotizzare una diagnosi più semplice. Perché vedete la tosse secca, sì è vero che è prevalente nel covid, ma ci può essere anche nell'influenza stagionale. Ci sono alcuni sintomi tipo la riduzione dell'olfatto o del sapore che sono tipici e se ci fossero quelli la diagnosi diventa sicuramente facile rispetto all'influenza stagionale. Vacciniamoci tutti. Naturalmente daremo non solo la precedenza ma il consiglio più determinato a chi è a rischio. Quindi cardiopatici, broncopneomopatici, diabetici gravi, pazienti affetti da patologie importanti. Ecco, il tutto va pesato dal proprio medico che poi ci orienterà magari anche verso una vaccinazione col vaccino, come dicevamo prima, cosiddetto quadrivalente. Questo, questo però, va ricordato. Anche le gravide, non c'è più il limite del secondo trimestre, secondo e terzo trimestre. Anche le mamme che allattano, anche i bambini dovrebbero essere vaccinati, naturalmente oltre i sei mesi di età. Tutto ciò consente di dare una copertura tale che il virus non ce la fa più a circolare e quindi ridurremmo il numero dei contagiati e ovviamente noi coi vaccini riduciamo anche l'entità del danno che questi virus possono provocare. Quindi il vaccino andrà fatto agli ultrasessantenni, ai medici, alla polizia, alle istituzioni, ai pompieri in prevalenza e poi possibilmente, dicevamo, a tutta la popolazione. Ricordiamoci un paio di cose ancora. Prima, il vaccino agisce dopo circa dieci giorni rispetto alla iniezione e infine il valore di questa copertura vaccinica è sicuramente importante entro i sei mesi. Grazie, buonasera. Grazie.